L'uomo che cammina sui pezzi di vetro 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 Insieme visitate la notte, che dicono è due anime, un letto e un tetto di capanna utile E dolce come ombrello tesoro tra la terra e il cielo Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso Tentativo di stupire, quando dici per quattro giorni che ti amo Ti prego non andare via, non lasciarmi inferito, che non hai capito ancora Come mai mi hai lasciato in un minuto tutto quel che hai Ma non stai bene, dove stai? Ma non stai bene, dove stai?